Una barca sospetta si sta avvicinando, guardate la barca sospetta, la barca fantasma era salpata dal porto 37 anni fa, dopo 37 anni è ritornata al porto, sarà un fantasma? Saranno due fantasmi? Saranno tre fantasmi? Chi lo sa? Queste cose potrebbero non essere accadute Chi lo sa? Vai scappare da Gio